Ok, allora, buongiorno, riprendiamo la settimana riagganciandoci all'esercizio della settimana scorsa che era quello sul quadrato magico. Io rispetto a ciò che abbiamo fatto in aula, di fatto subito dopo la lezione ho completato l'esercizio, ma dicevamo era abbastanza semplice perché la parte ricorsiva di fatto non ho dovuto toccare, ho semplicemente dovuto implementare i vari metodi contains, add, remove per la gestione del quadrato stesso, quindi dei numeri all'interno del quadrato, implementandoli essenzialmente sotto forma di delega, l'add delega la mappa sottostante, remove delega la lista sottostante, contains delega la lista sottostante e così via, quindi non c'è nulla di particolare e poi l'unica cosa un pochino diciamo così faticosa è stata implementare il metodo isMagic che ci dice effettivamente se questo quadrato parziale che a questo punto è arrivato alla massima dimensione, quindi siamo nel caso terminale della ricorsione, effettivamente è magico nel senso che quadrano tutte le somme. Il metodo isMagic è un metodo abbastanza noioso in cui devi metterti lì riga per riga a fare la somma, vedere se la somma è uguale o diverso dal magico, dal valore magico che dovrebbe avere, stessa cosa per le colonne, per la diagonale discendente, per la diagonale scendente e se c'è almeno una somma che non quadra, dici che non è magico, se invece tutte le somme quadrano ritorno al vero, quindi questa è una parte abbastanza noiosa ma per nulla difficile bisogna solo non far confusione con numeri di riga e numeri di colonne. L'altra cosa che non ricordo se avevamo già visto insieme oppure no è quando salvo la soluzione, dovevo sempre ricordarmi, l'avevamo visto nel caso del totocalcio, di fare un clone del quadrato ottenuto perché altrimenti rischiamo di salvare tanti riferimenti allo stesso oggetto che poi sarà vuoto al termine della ricorsione. Questo l'avevamo già visto, ormai ricordiamoci che sarà sempre così. Allora questo significa che semplicemente se io faccio run mi darà tranquillamente, a un momento impostato il 3 come parametro sulla dimensione del quadrato automatico da generare, mi dà tutti i quadrati magici di lato 3. Quindi 2, 7, 6, 9, 5, 1, 4, 3, 8 e 1, l'altro 2, 9, 4 come prima riga, 7, 5, 3, 6, 1, 8 e l'altro e così via. Ci sono, se non conto male, 3, 6, 8 quadrati magici di lato 3 e questa è la totalità di tutte le soluzioni possibili. E ho aggiunto anche un piccolo calcolo, piccolo timer, che mi dice che tutto questo è stato calcolato in malcontato un quarto di secondo, 220-230 millisecondi. Quindi questo esplorando tutto lo spazio possibile e immaginabile. Quindi io posso provare a lanciarmi e dire va bene, proviamo a vedere invece i quadrati di lato 4. Provo a eseguire il programma, quindi ho modificato il programma di test, ho messo 4 al posto di 3 e aspetto, e aspetto, e aspetto. Per quanto aspetto? Allora, la prima cosa che mi ha venuto in mente è ho sbagliato qualcosa. C'è qualche balco che fa sì che il programma con 3 funzioni, con 4 no, oppure non trovi nulla e quindi non mi stampi nulla. No, in realtà vedete che nella console c'è questo bottone rosso che indica che il programma sta eseguendo, è in esecuzione, quindi al limite se vogliamo lo dobbiamo stoppare, ma lui sta facendo qualcosa, semplicemente non sta dando segni di vita sull'output, perché non sta ancora stampando nulla. E quanto devo aspettare? Allora, nel resto della lezione di oggi ci daremo degli strumenti per poter immaginare o stimare quanto dovremmo aspettare in questo caso. Io ho provato a fare un altro esperimento diverso, qui lo stoppo perché non possiamo stare un'ora a guardare una finestra vuota. Dopo la lezione di lunedì o martedì scorso ho avviato questo programma su un altro pc, sul pc che è in ufficio, che è rimasto acceso da allora, perché da una settimana di fila sta girando. Quindi questa è la connessione remota sul computer che è in ufficio e effettivamente ha trovato un certo numero di soluzioni. No? Tanto ne sta continuando a trovare, quindi se io provo a mettere, copiamole nel blocco note. Ha trovato finora 304 soluzioni. Finora però ha girato qualcosa come 134 ore. Quindi, e va bene, dice quando è che terminerà? Eh boh, non so, adesso i quadrati che ha trovato sono del tipo 1, 14, 8, 11. Allora sapendo come va la ricorsione, l'1 in alto sinistra è il primo tentativo che ha fatto. Quindi quando al posto di 1 vedremo comparire il 2 vorrà dire che saremmo a un sedicesimo, no un sedicesimo, sì, sono 4x4 16 caselle, a un sedicesimo dello spazio di ricerca. Finora non siamo ancora arrivati a un sedicesimo. Siamo quasi alla fine, perché è 1, 14. Bisogna vedere se ci sarà 1, 15 o no, perché bisogna capire se ci saranno soluzioni o no. Non so adesso cosa sta facendo il programma, se sta esplorando ancora 1, 14 puntini puntini, oppure 1, 15 puntini puntini, oppure già 2, 1 puntini puntini. Perché se stampassi anche tutta sta roba, non capirai più nulla. Quindi, benché vada, supponendo che adesso sia arrivato alla fine del sedicesimo, del primo sedicesimo della ricorsione, significa che tra 16 settimane dovremo avere l'elenco di tutti i quadrati di lato 4, se nessuno si inciampa sul filo della corrente di quel computer, se non si pianta qualcosa, eccetera, eccetera. E allora uno si chiede, perché è lento così? Cosa succede? La prima cosa che, vedi, ma pure questo computer cosa sta facendo? Allora, una cosa che volevo farvi vedere è che questo computer che sta eseguendo questo programma, tra l'altro la cosa carina, perché questo programmino, qui, che si chiama Process Explorer, vabbè, uno dei tanti milioni di utility, ti fa vedere non solamente il tempo di esecuzione, ma anche il numero di istruzioni, di cicli macchina che sono stati eseguite da quando è stato lanciato il programma, e qui siamo nell'ordine del mille, un milione, un miliardo, mille miliardi, del milione di miliardi di istruzioni eseguite, no? In una settimana. Quindi la CPU, poverina, si dà da fare. Il computer non è neppure troppo stressato, perché se io vado a vedere l'uso della CPU di questa macchina, in buona parte è non utilizzato. Qui mi fa vedere che la CPU in totale è utilizzata dal 41%, 40, 35, insomma quei numeri, ma la parte che considera solamente il nostro programma, che è quella rossa, è utilizzata solamente per il 12%. Quindi il verde è altro, rosso è il nostro programma. E se vado in dettaglio, vedo che questo computer ha 8 core, come la maggior parte dei processori moderni, e uno lo vedo che lavora rosso, no? Un pochino l'altro. E tutti gli altri no. Perché? Principalmente perché questo programma è impostato in modo da essere totalmente sequenziale. Quindi ha un unico thread di esecuzione, ha un unico flusso di esecuzione, quindi pur avendo 8 core, che poi in realtà sono 4 virtuali, perché sono 4 core fisici e ciascuno dei quali implementa internamente due core logici. Questo è un problema di architettura della CPU. Però diciamo così, concettualmente avendo 8 processori disponibili, noi ne possiamo usare uno solo, per volta. Perché la nostra esecuzione nel programma è un'esecuzione seriale, sequenziale. Gli altri core sono usati nella parte verde, di fatto per far lavorare Windows, per far lavorare le finestre e altre cose. Quindi noi stiamo usando, nonostante abbiamo un computer abbastanza mediamente carrozzato, stiamo usando al massimo, vedete che stiamo usando praticamente, non è a caso che sia il 12% qua sotto, che sia, lo vedevamo prima, al 12,4%, 12,3%, e che è esattamente un ottavo. Quindi vuol dire, stiamo usando a manetta totalmente un core degli 8, poi in realtà non è sempre lo stesso, probabilmente lui per motivi termici passa un po' su questo, un po' sull'altro e poche altre roba, ma questo è un problema interno al sistema operativo, su come distribuisce tra i vari core le elaborazioni. Quindi abbiamo un processore virtuale degli 8 usato totalmente e tutto il resto non utilizzato. Quindi questo è già un primo problema, che noi questo corso non affronteremo, ma del fatto che per poter sfruttare la potenza di calcolo bisogna necessariamente passare alle elaborazioni parallele. Quando avere una macchina multicore, se poi il programma lavora su un thread solo, su un flusso solo di esecuzione sequenziale, un core lavora e tutti gli altri no. Quindi questo è il primo problema. Questo core lavora però, uno di questi lavora. Sarebbe stato carino, sapendo di avere una macchina 8 core, dire ok io lancio 8 volte il programma in parallelo e a ciascuno do una parte diversa dello spazio di ricerca da esplorare. A una copia do i numeri iniziali 1 e 2, l'altra copia do i numeri iniziali 2 e 3, così via, almeno vanno avanti in parallelo e arrivo alla soluzione 8 volte prima, più o meno, se poi non si intralciano tra di loro i vari programmi. Quindi bisogna riuscire a paralizzare l'algoritmo per riuscire a sfruttare la potenza di calcolo. E con la ricorsione è particolarmente facile, uno potrebbe dire ok io faccio i primi due livelli di ricorsione in sequenziale, poi dal terzo in poi lo do, anziché darlo semplicemente a una procedura ricorsiva nel mio stesso flusso di esecuzione, faccio partire un processo parallelo che si occuperà da qui in avanti. Quindi questo è facilmente sfruttabile. Vabbè, questo è il primo pensiero che volevo farvi vedere. E il secondo pensiero è perché? Ok, dato il fatto che questo è un processo sequenziale, va bene. Dove viene speso il tempo di esecuzione? Perché non mi da fuori le soluzioni? Allora, per fare questo io ho usato un altro strumento che ha un nome stranissimo, Java Mission Control, che è un programma che fa parte della, quando si è installato il JDK di Java, e questo è una di fatto una console di amministrazione della macchina virtuale Java, che ci permette di andare a osservare cosa fa la macchina virtuale e analizzarlo. Quindi questo qui, questo programmino bruttino, che mi dice, guarda che io ho trovato adesso JVM Browser in esecuzione tre macchine virtuale. una che sta facendo girare clips, una che sta facendo girare mission control e una che sta facendo girare test quadrato. E quindi si può andare a collegarsi a questa macchina virtuale per vedere cosa sta facendo. Ad esempio, un modo per vedere cosa sta facendo è fare questa, attivare questa funzionalità, non è per uno intuitivo questo programma, quindi non preoccupatevi, di registrare ciò che sta succedendo. Se tu attivi il flight recorder, praticamente registri per una certa durata il mission control, osserva cosa fa il programma, registra cosa fa e poi raccoglie dei dati, questa operazione si chiama profiling, quindi va a strumentare l'esecuzione del programma, si segna i metodi che chiami, quando li chiami, quanto tempo spendono, eccetera, eccetera. Ovviamente nel farlo un pochino ralenterà il programma, ma poi alla fine ti da dei dati oggettivi che ti dicono che cosa ha fatto il programma in intervallo di tempo di osservazione. Allora, io l'ho fatto ieri, l'ho osservato per cinque minuti, e qui apro semplicemente il file che avevo già ottenuto, vediamo di tempo di elaborarlo. Eccoci qua. E qui mi dice, essenzialmente mi dà l'informazione sulla memoria utilizzata minima e massima, sul tempo di CPU utilizzato, nei cinque minuti di osservazione, ma in realtà questo lo sapevamo già. La cosa interessante, qui mi fa anche vedere quanta memoria utilizzo, ma questo programma non alloca particolare memoria, quindi vedete che è molto piatta la curva sulla memoria. La cosa interessante è questa parte qua sul codice, che fa vedere, quindi io per cinque minuti ho osservato il mio programma ricorsivo, che sta girando da una settimana, e mi dice che il tempo di CPU speso è stato speso per l'87% dentro il package quadrato, e per il 12% del tempo dentro il package java.util. Questo è il livello di package, qua sotto c'è il livello di classi, e cambiando qua, quella più utile di tutti, questa hot methods, sono i metodi che hanno speso più tempo. Quindi questo programma per l'84% del tempo è dentro il codice della procedura cerca. Poi per l'11% del tempo è dentro il codice della remove, e tutto il resto è assolutamente trascurabile. Quindi ad esempio il metodo isMagic qua non compare neppure, che è un metodo complicato che fa tutti i doppi loop per contare le somme per riga per colonna, è irrilevante, perché magari è un po' lento quando lo chiamo, perché deve fare tanto lavoro, ma viene chiamato talmente raramente che complessivamente non conta. Cosa mi dice questo? Mi dice che ad esempio questo metodo remove non mi aspettavo, che lo uso nella fase di backtracking, non mi aspettavo che portasse via così tanto tempo, il 10% del tempo in un'istruzione sola. E allora potrei andare a capire come l'ho implementato e se si può recuperare. Quindi vuol dire che io il metodo remove l'avevo implementato, allora cerca quadrato, chiama remove qui quando deve fare backtracking. Dopodiché il metodo remove va a chiamare la remove della lista, passandogli un intero. Cosa fa questo metodo remove della lista? Va a cercare dove si trova l'oggetto e lo elimina. In realtà questo non ci serve. Cercare dove si trova l'oggetto, cioè il numero intero che vale 7, significa in un array list, ma in tutte le liste, scandire la lista dall'inizio fino a quel punto. Ma io so già, per come uso questo algoritmo, che quando faccio il remove dovrò sempre comunque togliere solo l'ultimo elemento. Qui è inutile che vada a fare la scansione nella lista. Io posso già dirti, cancella l'ultimo. Quindi nel caso della lista, in realtà ci sono due metodi remove, uno dei quali, che ho usato qua, riceve come parametro un oggetto, un object, l'altro, e quindi cerca l'oggetto e lo cancella, cercandolo, scandendo, chiamando il metodo equals, eccetera, l'altro invece riceve come parametro un int, e l'int rappresenta la posizione in cui c'è l'oggetto da eliminare. Quindi già probabilmente sostituendo da remove l'oggetto a remove la posizione, la posizione la conosco perché è il mio livello della ricorsione, probabilmente riesco a recuperare un 10% del tempo. Io non ho avuto il coraggio di fare questa modifica perché avrei dovuto stoppare il programma e farlo ripartire. Quindi ci sono una serie di ottimizzazioni, anche stupide, che magari non ci vengono in mente fino a quando, dati alla mano, non scopriamo dove il tempo viene speso da un programma. Quindi il problema dell'efficienza è anche andare a capire, e non è assolutamente intuitivo, capire dove viene speso il tempo, e capire perché, e capire come si fa eventualmente a modificarlo. Quindi qua i modi sono diversi, rimuovere l'elemento per posizione anziché per valore, e quindi evita una ricerca lineare nella lista, oppure l'altra possibilità è non andare a modificare la lista parziale. Perché io quando faccio ricorsione ho l'oggetto parziale a cui la modifico e aggiungo un pezzo. E poi, dopo aver aggiunto un pezzo, devo rimetterlo a posto, ovviamente. Ma se rimetto l'oposto, backtracking, mi costa, io forse faccio più in fretta a prendere quell'oggetto parziale, clonarlo, modificare il clone, e poi buttarlo via. Non devo fare nessun backtracking perché l'oggetto originale non l'ho mai toccato. Quindi in questo caso non si farebbe parziale punto add di, ma sarebbe parziale punto clone punto add di. E a questo punto a questa procedura ricorsiva passo il clone, modificato, e non devo più fare backtracking. Voi mi dite, eh ma cacchio, ma clonare un oggetto costa perché devo copiarci i dati dentro. Sì, però costa anche eliminare l'elemento così. Quale costa meno? Sperimentiamo, bisogna provarlo. Di sicuro costa meno l'ultima, cioè rimuovere per posizione, perché non devo copiare dati in nessun caso. Oppure cercare dati in nessun caso. Quindi sono queste piccole cose che quando uno ha dei problemi di performance può andare a guardare. Oh, non risolviamo niente, eh, sia ben chiaro. Perché defalcando l'11% di CPU, anche se questo scendesse a zero, in 16 settimane lo termineremo probabilmente in 15 settimane. Abbiamo un 10% in meno. non abbiamo sostanzialmente risolto il problema. Perché il grosso dell'efficienza o della non efficienza di un programma non sta tanto, sta sicuramente nelle strutture dati, ma di più ancora nell'algoritmo. Nell'algoritmo utilizzato. Noi adesso abbiamo un algoritmo che volutamente non è per nulla ottimizzato. Zero. Cioè è un ricorsivo puro che non cerca di avere nessuna intelligenza se non l'esplorazione completa dello spazio di ricerca. E come potrebbe essere reso più furbo? In tanti modi. Il primo modo che mi viene in mente è qui. Cioè se io mi accorgo che dopo che ho giunto un elemento, supponiamo siamo 4 per 4. Primo elemento, secondo, terzo, quarto. Dopo che ho giunto il quarto, potrei fare la somma della prima riga, no? Visto che la prima riga è già completa. E dopo che ho messo la somma della prima riga, se questa somma quadra, vado avanti. Se non quadra, mi fermo subito. Ed evito di fare tutte le ricorsioni sottostanti, dalla casella 5 alla casella 16. Idem 5, 6, 7, 8. Dopo che ho la seconda riga completa, posso fare anche la somma della seconda riga. E se la seconda riga quadra, vado avanti. Se non quadra, mi fermo. Quindi anziché aspettare di arrivare al livello 16, posso fare un controllo preliminare sulle soluzioni parziali. Io sulle soluzioni parziali non posso dire che è giusta, o che porterà una soluzione giusta. Però posso magari scoprire che è sbagliata, che non porterà di sicuro una soluzione. Allora, a livello 4, a livello 8, a livello 12, in generale a livello I modulo size, posso fare un controllo parziale sulle righe. È chiaro che è un tempo di calcolo in più, che mi sobbarco spesse volte, ma magari spendendo un pochino di tempo in più a fare delle somme parziali delle prime righe, risparmio molto più tempo nel numero di chiamate. Nel numero di chiamate di questa funzione ricorsiva. Quindi questa è la prima ottimizzazione possibile. Un'altra ottimizzazione possibile è l'ordine con cui riempio il quadrato. Io lo sto riempiendo per righe, no? Però nell'ottica di... Nell'ottica di fare dei controlli, dicevamo, primo, secondo, terzo, quarto, faccio la somma e vedo. Se la somma è positiva e il valore corretto vado avanti, quinto, sesto, settimo, ottavo, rifaccio la somma, controllo queste due, eccetera, eccetera. Però così vuol dire che, ok, il primo controllo lo faccio dopo quattro livelli, il secondo controllo lo faccio dopo altri quattro livelli. Si può fare di meglio? Sì. Io potrei riempire il quadrato così. Uno, due, tre, quattro, cinque, due, sei, sette. Tanto lo posso riempire nell'ordine che voglio, no? L'importante è che sia coerente, c'è sempre lo stesso ordine delle caselle. Allora vuol dire che io il primo controllo lo posso fare dopo quattro livelli di ricorsione, il secondo lo posso fare dopo sette livelli di ricorsione, non dopo otto. Cosa vuoi che sia? Eh, 16 volte tanto il tempo di ricorsione. E allora a questo punto posso fare sette, otto, nove, dieci. E quindi posso controllare la seconda riga dopo dieci livelli, anziché dopo quattro, otto, dodici. Undici, dodici. E quindi faccio il terzo controllo al dodicesimo livello e non al sedicesimo. Quindi riesco molto prima a fermare la ricorsione perché riesco a fare dei controlli preliminari di validità, di sanità. Tra l'altro qua posso anche fare, guardate già, la diagonale è traversa. Così, la prima cosa che mi viene in mente, no? Ragionandoci sul problema, uno riesce a capire che ci sono, affrontandolo, dividendo nel modo giusto, divide timpera, sì, ma non divide a caso, divide ragionandoci, riesce ad anticipare molte volte la soluzione. Anticipare la soluzione significa tagliare pesantemente i rami della ricorsione. Quindi, facendo giochini di questo genere, io ho la speranza che riusciamo a fare una versione del programma che mi risolve il problema di 4x4 in un tempo più accettabile. Non oso fare previsioni, eh? Però riducendo notevolmente il numero di chiamate ricorsive che faccio. La funzione ricerca non fa niente, poverina. Perché, a parte questo che viene fatto solamente nel caso dell'ultimo livello di ricorsione, ma altrimenti fa un add, un remove, fine. Cioè, non è che puoi semplificarla, non c'è niente da togliere qui. Non è il problema il tempo di esecuzione della funzione cerca. Il problema è che ha un tempo di esecuzione ridicolo, ma viene chiamata un numero esorbitante di volte. Adesso il profiler, purtroppo, questo qui non mi fa vedere il numero di chiamate. Altri profiler più furbi, invece, fanno proprio vedere quante chiamate ha fatto e quanto durava ciascuna chiamata. Da qui vedevi se il problema era il numero di chiamate oppure il tempo unitario speso in ciascuna chiamata. Quindi ci sono tre dimensioni su cui lavorare per recuperare l'efficienza di un programma. Uno, sfruttare al meglio l'hardware. Quindi se l'hardware era parallelo, facciamo un programma che possa lavorare in modo parallelo. Due, evitare di sfruttare meglio le strutture dati, diciamo così. Evitare di fare delle operazioni che siano inutilmente costose. Il discorso della remove che si poteva fare meglio. Quindi evitare di sprecare tempo a scandire una lista quando sai che l'elemento che vuoi cercare è sempre l'ultimo. quindi sapere esattamente quali strutture dati usare in quale contesto. Tre, che è quello più importante, che dà più effetti, migliorare l'algoritmo. Rendere più intelligente l'algoritmo. Dare all'algoritmo una maggiore conoscenza del problema. Perché se guardate questo codice è uguale in qualunque procedura ricorsiva di questa terra. Lui va giù, testa bassa, senza guardare. L'unico che sa che problema stiamo risolvendo è questo metodo qua. Tutto il resto del codice non sa cosa stiamo facendo. E quindi, poverino, funziona ma è molto dispersivo. Mentre invece se noi spieghiamo già anche la parte di discesa ricorsiva, quella che scende, non quella che valuta in fondo, guarda che ci sono certe strade che sono migliori di altri, stiamo dando conoscenza del problema alla procedura ricorsiva e che la rende più furba nell'esplorare il spazio di ricerca o meglio ancora nel non esplorare parte dello spazio di ricerca quando sappiamo che non sono promettenti, che non possono contenere la soluzione. Ok? Vabbè, lasciamolo andare così vediamo fin dove andrà. Io di sicuro non lo lascio girare per 16 settimane, però ci tenevo a tenerlo vivo fino alla lezione di oggi per poter fare questi ragionamenti insieme. E questi sono tutti ragionamenti però empirici, ok? Modifichiamo qualcosa, proviamo, vediamo cosa succede. Come facciamo a strutturare un po' meglio questi ragionamenti? Beh, ci sono delle tecniche di analisi che ci permettono proprio di ragionare sulla complessità computazionale, cioè quali sono le risorse in termini di tempo e memoria e spazio che sono necessarie per poter risolvere un certo problema, per poter arrivare alla soluzione di un certo problema. Allora, quello che abbiamo visto è un'analisi empirica, no? Abbiamo provato a fare un programma, ci siamo accorti che è lento e allora ci siamo fatti la punta al cervello per capire come fare a renderlo più veloce. E abbiamo usato degli strumenti per aiutarci un po' a capire cosa stava succedendo. Va bene. A questo punto cosa bisognerebbe fare? Stop, modifica il programma, run e prova di nuovo. Empirico. Oppure in alcuni casi si può anche fare un'analisi più analitica che per lo meno ti permette di capire se vale la pena. Cioè noi abbiamo fatto una stima che dopo una settimana di lavoro probabilmente tra 16 settimane, quindi tra 4 mesi, maggio, giugno, luglio, agosto, quando torniamo dalle vacanze forse avremmo una soluzione. Questa stima io l'ho saputa fare solamente dopo qualche giorno di lavoro perché dopo mezz'ora non c'era ancora nulla e cosa ho saputo stimare? Quindi non è neanche facile quando fai partire un programma sapere quando avrà finito, quando terminerà. E se avessi scoperto che anziché tra 16 settimane questo programma rischiava di terminare tra 12 anni? o tra 2 milioni di anni? E allora lasciamo perdere, no? Ma anche prima di scrivere la prima riga di codice. Non è quello l'approccio giusto. Non è un problema che possiamo risolvere in modo esaustivo. Serviranno altre tecniche di attacco. Ovviamente da un lato abbiamo il miglioramento della potenza del computer che ci aiuta. C'è problemi che oggi questa qua è una scala che sull'asse delle X ha gli anni e sull'asse delle Y ha una scala logaritmica. numero di operazioni al secondo per mille dollari di costo dell'hardware. che fa vedere che c'è un trend ovviamente, questa sembra grossomodo una retta, forse un pochino più di una retta, ma su scala logaritmica quindi siamo su un andamento più che esponenziale. ci fa vedere che a parità di costo di investimento hardware, man mano che passano gli anni il computer che costa sempre uguale diciamo, 500, 1000 euro, 1000 euro diciamo, sarà ogni anno più potente. Più potente dell'anno precedente, a patto di cambiare tutti gli anni. Ma quello che compie a un certo prezzo ogni anno sarà più potente. Quindi problemi che prima erano impensabili diventano poco per volta più affrontabili. o con una velocità esponenziale. Quindi uno dice, beh, un problema adesso è troppo complicato, ma se io aspetto 4-5 anni, i computer che ci saranno tra 4-5 anni si potrà risolvere. Perché i computer che ci saranno tra 4-5 anni saranno, non so, 2 alla 4, 2 alla 5 volte più veloce. Non è così, non è 2, è la base di questo esponente. La legge di Moore diceva che la potenza di calcolo aumenta, raddoppia ogni 18 mesi, 1,5 anni. Quindi l'esponente non è 2, ma è poco meno di 2 all'anno. Quindi è 2 ogni 18 mesi, ogni anno e mezzo. Questo sì è vero, a meno che il problema non cresca con la dimensione più che un esponenziale. Allora, se io avessi un miglioramento delle prestazioni di computer esponenziale, ma il problema che comunque cresce ancora più velocemente di un esponenziale, non serve a niente aspettare. Avrei comunque un gap che non riesco a colmare. Asintoticamente sempre più grande. Quindi sicuramente andando avanti possiamo risolvere, vabbè, problemi sempre più grandi. Quindi qualunque dominio di problema, dal sudokino al sudokone ad esempio, anziché 3x3, 5x5, con tanto della tristezza che mi fanno i sudoku. Ma, in generale, cosa possiamo dire? Allora, dal punto di vista analitico, noi possiamo immaginare di avere una scatola magica che, dato un algoritmo, ci dica quanto tempo di esecuzione impiega. Ci consentiamoci sul tempo, poi discorsi analoghi si potrebbero fare sullo spazio, ma nel nostro tipo di applicazioni non è un grosso problema lo spazio, c'è la memoria occupata. Allora, per i nostri algoritmi noi abbiamo un parametro che rappresenta quanto è grande il problema da risolvere. Cioè, in questo caso avevamo un quadrato di dimensione 3x3, poi abbiamo provato col 4x4, visto che 4x4 non osiamo provare col 5x5. Ah, non ho provato col 2x2 perché non ha soluzioni, quindi se dovete provarlo in un attimo dice che non c'è niente. E quindi abbiamo un n che cresce, che ci dice qual è la scala del problema. Dobbiamo trovare, che ne so, la miglior strada per toccare 10 città o per toccarne 15 o per toccarne 20, quello è un fattore di scala del nostro problema. Allora, immaginiamo di avere una funzione t che mi rappresenta il tempo di esecuzione di una generica istanza di un problema di dimensione n. Quindi n non è il numero che gli do l'ingresso, è la dimensione, un numero che correla con la complessità, difficoltà, dimensione dell'input. A seconda dei casi, forse tutto calcio è il numero di partite, il quadrato magico è il lato. E dato un algoritmo, qui ho buttato giù l'algoritmo molto facile, il bubble sort, l'ordinamento di numeri interi in un vettore, in cui vado a confrontare ogni volta numeri affiancati, in posizioni adiacenti, e se sono nell'ordine sbagliato rispetto all'ordine che voglio ottenere, li scambio tra di loro. E ripeto questo fino a quando c'è qualcosa da scambiare. Quindi parto da un vettore non ordinato e con una serie di scambi arriva un vettore ordinato. E allora mi voglio chiedere, questo algoritmo qua, a priori, posso dire quanto tempo ci mette a ordinare un vettore? Senza sapere quali sono i numeri specifici, no? Ordiniamo in senso astratto. E ovviamente mi aspetto che il tempo impiegato ad ordinare un vettore cresca col crescere della dimensione del vettore. Allora se un vettore da 6 elementi come questo ci mette a un certo tempo, e se lo avessi da 12, da 18, da 24, da 60, da 600, aumenta l'n, aumenta la dimensione del problema da risolvere, come aumenta il tempo per risolvere il problema? Proporzionale n, n quadro, 2ln, logaritmo di n, b. In particolare, in questo caso, l'algoritmo di bubble sort è molto deterministico e impiega ogni volta esattamente questo numero di passaggi. n quadro meno n diviso due passi. Perché il numero di confronti che si possono fare. Non ci interessa il bubble sort, quindi non entriamo nel dettaglio. Ma questa slide serve per ricordarci che poi, a seconda del computer su cui siamo, del linguaggio di programmazione che usiamo, questo numero di passi si traduce in un numero di istruzioni, di macchina e quindi poi di tempo reale diverso. Quindi questo ragionamento che facciamo a livello asintotico astrae rispetto a una certa serie di fenomeni, rispetto all'hardware che abbiamo. Noi diciamo, va bene, ma comunque n quadro meno n diviso due. Noi dall'analisi matematica sappiamo che al crescere di n, questa cosa qua, cresce come n quadro. Cioè ciò che ci interessa è il fatto che ci sia un termine dominante n quadro. Quindi astraiamo rispetto ai termini secondari, non li guardiamo, e astraiamo rispetto al fattore di scala. Quindi diciamo, beh, il mio computer e il tuo computer più o meno valgono lo stesso. Magari il tuo è veloce il doppio, va bene, fa lo stesso. Vorrà dire che il mio sarà 2n quadro, tu sarai 1n quadro perché è veloce il doppio. Ma astroticamente sarà sempre n quadro. Non è che col tuo risolvi problemi mastodonticamente più grandi del mio. Ci metterai solo la metà del tempo, non esponenzialmente di meno, ad esempio. Quindi diciamo che tutte queste varianti di questi programmi in qualche modo hanno un andamento asintotico della complessità dell'ordine di n quadro. Asintotico. Al crescere di n, per n molto grandi. Se avessimo un n piccolo, no, questo calcolo qua non serve, devo andare più nel dettaglio. Ma sull'n grande, no, questo è quello che vale. E ovviamente a meno di un fattore di scala moltiplicativo, una costante moltiplicativa. Dicevamo prima, se io avessi messo a posto il remove, guadagno il 10%. Ok. Ti rimane sempre il fattoriale di un quadrato. Lo scopriamo dopo. Quindi, per formalizzare queste nozioni, in informatica teorica si introducono delle notazioni di questo genere, che sono in qualche modo copiate da quelle dell'analisi matematica. O grande, omega grande e teta grande. Sono delle definizioni molto semplici. O grande rappresenta un limite massimo sul tempo di esecuzione. Cioè, nel caso peggiore, l'ordine di crescita della funzione che rappresenta il tempo è di una certa funzione. Quindi, formalmente, dico che f di n, che potrebbe essere il mio tempo di esecuzione, è o grande di g, se f cresce al massimo veloce come g. Quindi esiste da un certo n0 in avanti una costante c, che moltiplicata per g fa in modo che cg sia maggiore di f. Questa è la definizione di limite, niente di più. Quindi questa è la definizione. Esistono un c, un n0, tali per cui. Cioè, tali per cui la mia funzione asintoticamente sia dominata dall'andamento di g. Quando dico o di n quadro, nel caso del bubble sort, sto dicendo che la crescita della mia funzione è magari una funzione complicata, non riesco a scriverla, ma asintoticamente è dominata da una funzione n quadro moltiplicata ad un opportuno coefficiente. Quello è un tetto oltre il quale la mia complessità non può scendere. Attenzione che bisogna scegliere il limite superiore corretto. Perché io so, vi ricordate, dal primo anno, tutti i calcoli che avete fatto con i limiti, gli infinitesimi, eccetera, log di n alla seconda è una funzione che cresce molto poco, no? Cresce meno di n. Però tu puoi dire che è o di n. Formalmente è corretto, perché o di n assintoticamente domina. Ma non solo domina, si allontana anche, si allontana un po' troppo. Quindi, se io avessi un algoritmo la cui complessità, il tempo di esecuzione, scusate, la complessità non l'abbiamo ancora definita, il tempo di esecuzione cresce come logaritmo di n alla seconda, gli farai un disservizio dire che è un algoritmo di complessità o di n. Certo che è o di n, ma è anche o di qualcuno di meglio di n. Sono riuscito a far di meglio. Solo che ho scelto un upper bound, magari facile da calcolare, ma non tanto realistico rispetto all'andamento del programma. Vabbè, qui vi salto i dettagli. E quindi, è interessante cercare di riuscire a pinzare meglio il vero andamento del tempo di esecuzione del programma. Ad esempio, affiancando all'upper bound, anche un lower bound. E quindi, si può definire questo che viene chiamato omega grande, che è esattamente contrario. Cioè, una funzione è omega grande di un certo ordine di funzione g, se la funzione stessa domina, non è dominata, g da un certo punto in avanti con un opportuno coefficiente moltiplicativo. Quindi vuol dire che g di n rappresenta, diciamo così, un andamento minimo alla crescita della mia funzione f. Quindi vedete che queste due, f e g, si sono scambiate. Quindi è un limite al contrario. Allora, di fatto, quando si fa l'analisi della complessità di un algoritmo, quello che si fa è di cercare, se riusciamo a trovare due funzioni, una che rappresenti l'upper bound, l'altra che rappresenti il lower bound, della reale tempo di esecuzione del mio programma, meglio ancora se riusciamo a trovare queste due funzioni uguali. Qua c'è sempre g e qua c'è sempre g, ovviamente moltiplicate per dei coefficienti opportunamente diversi in modo da distanziarle. Allora, se io riesco a trovare una funzione g che sia contemporaneamente upper bound e lower bound dell'andamento asintotico di crescita del mio tempo di esecuzione, allora, vabbè, la funzione vera del tempo di esecuzione magari è complicata, ma so esattamente in quale binario cresce. In questo caso, mettere insieme l'omega grande e l'ogrande mi dà il cosiddetto teta grande, la lettera teta sembra un po' la combinazione di una O con una omega, no? E allora, in questo caso, diciamo che F è esattamente dell'ordine di G. Non è inferiore a, non è superiore a D, ma esattamente dell'ordine di G. Quindi, in qualche modo, F è teta grande di G se è pinzata tra due copie di G con coefficienti diversi. Oppure F può essere solo O grande di G se sta al di sotto, oppure può essere solo omega grande di G se sta solo sopra. Queste sono le notazioni che usiamo. Diciamo che l'omega grande mi dà il caso migliore. Cioè, sotto di questo non può scendere. Quindi, anche se sono fortunato e mi è andato un problema facile da risolvere, questo tempo minimo ce lo spendo sempre. Asintoticamente su N grande. L'omega grande mi dà il caso peggiore. Peggio di così non può fare. Più sul di questa linea non può salire. Il teta grande mi dà il caso normale. Ti dà la crescita tendenziale effettiva. Ok. Vabbè, rimaniamo, come dicevo, saltiamo i dettagli. E quindi, in pratica, a seconda del tipo di algoritmo, osserviamo varie tipologie di crescita, di ordini di crescita. A questo punto, con la notazione teta grande, o anche solo lo grande, se ci fermiamo agli upper bound, abbiamo buttato via tanti dettagli. Ci concentriamo su qual è il termine dominante. Il termine dominante può essere lineare, può essere sublineare, cioè logaritmico, oppure una potenza minore di 1, una radice quadrata, capita raramente trovare algoritmi che abbiano radice di x. Per logaritmo sì. Oppure N log N, che cresce un pochino più del lineare, polinomiale, quindi N quadro, N cubo, esponenziale, o peggio. Qui ci sono alcuni termini di confronto che confrontano per diversi valori di N, N vale 10, 10 alla seconda, 10 alla terza, 10 alla quarta, 10 alla quinta, 10 alla sesta, quindi al crescere di N, qual è l'effetto dei varie tipologie di algoritmi. Ad esempio, vediamo che un algoritmo lineare con poca capacità di O di N, se con N uguale a 10 ci mette 10 microsecondi, con N uguale a 100.000 ci mette 0,1 secondi, con N uguale a 1 milione ci mette 1 secondo. Beh, ovvio che è più lento, ma tutto sommato è gestibile. Ma se io lo stesso algoritmo ha una complessità N cubo, 10 alla terza, 10 alla sesta, 10 alla nona, passo dei millisecondi, velocemente ai secondi, velocemente ai minuti, velocemente ai giorni e agli anni e alle migliaia di anni. Allora, mentre se un algoritmo lineare, al crescere di N, basta avere un pochino più di pazienza, ma la soluzione la trovo, se già è un algoritmo cubico, al di sopra di una certa dimensione, passiamo dai millisecondi al migliaia di anni, capite che a un certo punto mi fermo, quando il tempo di esecuzione supera magari qualche ora, non me lo posso più permettere, non mi interessa di più, non mi interessa più, no? Se non così, per pallino, come c'è stato il giorno, quest'anno, sapete che il 14 marzo, il giorno di Pi Greco, il Pi Day, Google ha fatto la sparata, che sono riusciti a trovare l'espressione di Pi Greco, hanno battuto il record sul numero di cifre di Pi Greco calcolate, hanno detto che ci hanno messo circa 140 settimane di calcolo, ovviamente non di calendario, ma hanno n computer in parallelo, la cui somma totale del tempo di calcolo era di qualche centinaio di settimane. A cosa serve? Niente ovviamente, no? Battere un record a dimostrare che se ci si interessa la soluzione reale del problema, il tempo che ci metto a trovare una soluzione è quasi più importante che di non la capacità teorica di riuscire a trovare la soluzione, anzi non è quasi, è più importante. E se andiamo sull'esponenziale, ci fermiamo subito, eh? 10 millisecondi, 3 per 10 alla 17 anni, subito, al primo gradino, l'esponenziale è un muro. Non ci posso fare niente, se passo da 10 a 100 non lo posso fare. Quindi questo ci bloccherà tantissimo, nel senso che in molti algoritmi si cercherà sempre di mantenere l'ideale sarebbe la complessità lineare, un n log n in alcuni casi, ad esempio nel caso dell'ordinamento di vettori, gli algoritmi poco efficienti sono la complessità n quadro, quelli più efficienti sono la complessità n log n, e si è dimostrato che non può esistere nessun algoritmo che sia più efficiente di anelog n. Punto. Poi si concorre sempre con lo più veloce e con lo meno veloce, perché qui stiamo parlando di tendenza sintotica. Però ci sono molti problemi di cui, quando l'algoritmo noto, più efficiente, abbia una complessità esponenziale, siamo fregati, dal punto di vista pratico. Vuol dire che abbiamo una limitazione forte alla dimensione dei problemi che potremmo mai in pratica risolvere. E come arriviamo a queste cose? Vabbè, sono tanti metodi di analisi, però noi troviamo un metodo di analisi molto semplice basato su cinque regolette. Dicono, ti approssimo quale potrebbe essere l'andamento della funzione T. Con questa regola ogni istruzione singola del mio programma ha una complessità o di uno, costante. Se faccio una print line, è costante. Se faccio 3 più 2, ha una certa complessità, costante. Poi, quale sia questa costante non ci interessa. Il fatto che, regola 2, istruzioni diverse abbiano tempi di esecuzione diversi, quindi fare 3 più 2 è un conto. Fare 2 alla seconda per 3 alla seconda e prendere l'ogaritmo di questo ovviamente richiede alla CPU un tempo maggiore. Se deve fare il calcolo in virgola mobile, eccetera. Ignoriamo questa differenza. Per noi è sempre O di 1. O di 1 più O di 1. Come sempre, nel calcolo infinitesimale, in questo caso, nel calcolo infinitesimo, si ignorano queste differenze nelle costanti. Regola 3. Se ho un'istruzione condizionale, if, else, calcolo la complessità del ramo if, calcolo la complessità del ramo else e prendo il peggiore tra i due. Regola 4. Se ho una sequenza di passi, quindi un'istruzione, punto e virgola, un'altra istruzione, punto e virgola, un'altra istruzione, la complessità è data dalla somma delle complessità dei singoli passi. Ricordandoci che lo grande mangia. Per cui, se io ho un passo della funzione che ha complessità f, un altro passo subito dopo, che viene eseguito dopo in sequenza, non in alternativa, in sequenza, ha complessità n cubo, l'insieme della procedura avrà complessità f più g, n cubo più n quadro, ma n cubo più n quadro è o grande di n cubo. Quindi conta sempre solo il termine asintoticamente più dominante. Quindi siamo sempre nel caso peggiore. Alla fine, suona un po' strano, ma avere istruzioni condizionali, cioè degli if che faccio o questo o quell'altro, oppure fare questo e anche quell'altro, asintoticamente è la stessa cosa. Perché in entrambi i casi, vado a vedere qual è il termine dominante tra i due, che poi in un caso uno e i due lo eseguo, l'altro no, e nell'altro invece è l'esempio che ho sempre entrambi, ma nel caso peggiore conta come se avessi fatto sempre quello più pesante. E poi ci sono i cicli. Allora, se io ho un'istruzione all'interno di un ciclo e questo ciclo viene eseguito n volte, allora la complessità sarà n moltiplicata dalla complessità della singola iterazione, che è quasi intuitivo. Quindi, ad esempio, proviamo a applicare questa cosa a questo semplice ciclo ogni dato. Allora, questa è un'istruzione semplice a cui attribuiamo una complessità O di 1, che però è messa dentro un ciclo che viene ripetuto n volte. Quindi questa è la complessità O di n. poiché questo è annidato dentro l'altro, le complessità si moltiplicano. E quindi questa è una complessità n per 1, cioè n. Poi a sua volta, questo è dentro un ciclo che viene eseguito n volte. Quindi questo O di n è dentro un ciclo che viene eseguito n volte, quindi ha una complessità O di n, perché fa n volte l'operazione di incremento e di confronto. L'annidamento di questo dentro questo fa sì che complessivamente abbiamo una complessità di n quadro, n per n. Quindi due cicli annidati danno una complessità n quadro. Quindi la complessità cresce non tanto col numero di righe di programma, ma col livello di annidamento. Tra l'altro la ricorsione è un modo particolare di annidare le cose una dentro l'altra. Non abbiamo dei for, ma abbiamo una funzione che chiama n volte quell'altra. Ecco, ci sono poi casi più complicati, nel senso che uno dice, qui vedete che u uguale 0, u minor di n, quindi il ciclo interno viene eseguito sempre n volte. Ma magari vogliamo una soluzione più efficiente in cui il ciclo interno viene eseguito n volte, poi n meno 1, poi n meno 2, poi n meno 3, poi n meno 4, per esempio. Nell'ordinamento dei vettori si fa così. Quindi vedete che in questo caso il punto di partenza dell'indice u non è 0, ma è t. Quindi la prima volta con t uguale a 0 viene eseguito n volte. La seconda volta con t uguale a 1 viene eseguito n meno 1 volte, e così via. Quindi questa complessità qua sarà un n meno t, il numero di volte che viene eseguito. Allora, come faccio a calcolare? Vale la regola del prodotto? Beh, se volessi essere preciso dovrei dire, no, ma allora il numero di volte che questo viene eseguito è uguale a n più n meno 1 più n meno 2 più n meno 3 più n meno 4 eccetera eccetera. Che mi dà una formula del tipo n per n meno 1 mezzi. Che gira e rigira è sempre n quadro come ordine di grandezza. Quindi sicuramente questo fa la metà delle operazioni. Non ne fa n quadro ma ne fa n quadro mezzi, meno ancora un pezzo, meno della metà. Astintoticamente è uguale. Praticamente è migliore, se posso scegliere questo o l'altro è meglio scegliere questo che da un'ora diventa mezz'ora. Ma non possiamo sperare che con questo miglioramento di un fattore 2 si possa arrivare a risolvere dei problemi su una scala significativamente più grande rispetto all'altro caso. Sono tutte costanti che ben vengano, ben venga è giusto ottimizzare ma non cambia la sostanza del valore massimo di n a cui si riesce praticamente ad arrivare. Questo è un altro esempio di un vettore che prima viene azzerato e poi diciamo così ordinato o cose di questo genere. Quindi abbiamo una passola di n in cui semplicemente azzero le celle, un passola di n quadro in cui ragiono su tutte le coppie. La regola della somma mi dice che poiché ho due blocchi in sequenza dovrò fare la somma delle complessità corrispondenti e quindi la somma mi dà devo trovare qual è il termine dominante della somma che è sempre n4 quindi questo passo di azzerare il vettore prima non pesa sulla complessità. Ovviamente è tempo vero speso ma sintoticamente non mi cambia la complessità. Anche se questa operazione fosse complicatissima l'avevamo visto prima nel nostro metodo is magic che comunque fa tanti loop tante cose alla fine non contribuiva per nulla alla complessità perché rispetto all'altro che era più grosso lui spariva e qui analogamente qui c'è un if che in un caso deve eseguire del codice con complessità lineare e in un altro caso deve eseguire un'istruzione semplice quindi con complessità costante. Ovviamente tutto questo cosa sarà? Sarà il massimo tra questi due e quindi odn. dentro un ciclo che viene eseguito n volte fa n quadro e così via. Quindi questo qua in un certo senso queste regolette sono un pochino coltellino svizzero che ci permette di guardare nel codice e farci già un'idea della sua complessità essenzialmente andando a guardare i cicli annidati principalmente questo è un po' l'indicatore di quali sono i fattori che fanno crescere la moltiplicazione. Questo per quanto riguarda il codice semplice voi mi potete chiedere ma da dove saltano da dove possono saltare fuori gli esponenziali? Cioè tu mi hai fatto vedere che la complessità o si somma o si moltiplica quindi alla fine avrai n quadro n cubo n quarto ma sempre polinomiale da dove salta fuori l'esponenziale? È dalla ricorsione non solo ma la ricorsione è sicuramente un punto in cui salta fuori. Noi avevamo visto una ricorsione di questo genere questo è lo schema generale delle slide che abbiamo visto la settimana scorsa qualunque problema ricorsivo grosso modo si riconduce a questo schema. Adesso proviamo ad applicare il metodo di analisi della complessità a questo schema generale. Allora qui avevo detto divido il problema per ogni sottoproblema risolvo le sottosoluzioni e ricombino. Diamo dei nomi A è il fattore di decomposizione di branching in quanto dato un problema a qualunque livello della ricorsione in quanti sottoproblemi lo divido? E B B quanto ciascuno di sottoproblemi è più piccolo del problema di partenza? Perché io potrei dividerlo in 10 sottoproblemi ciascuno di quali non è un decimo ma magari solo un quinto o solo un quarto del problema di partenza. Dipende quanto è facile decomporlo in modo netto. Quindi A e B mi dicono come faccio la decomposizione dei problemi. Dato un problema ricorsivamente quanti ne ho alla ricorsione sottostante e quanto ciascuno di questi problemi è più piccolo in termini di n del valore. n ovviamente è la dimensione del problema originario poi abbiamo il metodo solve che è la nostra procedura ricorsiva di cui vogliamo sapere qual è la sua complessità. Quindi il t di n la nostra incognita è qual è la complessità di questa funzione. Noi chiamiamo tre altre funzioni che sono solve trivial cioè risolvi la soluzione nel caso terminale quando ormai devi solo dire se il problema è risolto o no e ipotizziamo che sia sempre t di 1 essenzialmente una costante o quasi una costante se no non sarebbe trivial per definizione se la soluzione non è banale da trovare su un problema ridotto a quelle dimensioni non è banale allora andiamo ancora avanti con la ricorsione. E poi però abbiamo visto che dividere e ricombinare soluzioni ha un costo in nostro caso le backtracking che serviva per rimettere a posto le ricorsioni avevano un costo di 10% quindi non è detto che sia costante chiamiamo D la complessità della divisione e C la complessità della ricombinazione. Vabbè abbiamo dato un po' di simboli e questo ci permette di annotare questo codice dicendo che Tdn è la complessità di solve qui c'è un if un if in cui in un ramo c'è teta di 1 nell'altro ramo c'è un loop un ciclo che viene eseguito a volte perché a è il numero di 18 problemi che ho generato quindi questo ciclo viene eseguito a volte dentro che cosa fa? Per ciascuna volta chiamo la funzione solve che complessità ha la funzione solve? T che è la nostra funzione ignota ma fa lo stesso è sempre sempre T però questa T lavorerà non sul problema n ma sul problema n diviso b quante volte è più piccolo del problema quindi questa cosa qui mi dà una complessità pari ad A moltiplicato T dn su b più perché viene fatto prima ddn più cdn quindi la complessità dn o l'if se sono sul caldo terminale è teta di 1 se non sono nel caldo terminale o dividi più fai A volte la chiamata ricorsiva su un problema n volte b volte più piccolo e poi ricombina quindi di fatto è un'equazione della ricorrenza nel senso che lasciamo perdere questo caso particolare del teta del costante abbiamo che T dn uguale una cosa in cui compare T dn meno b moltiplicato per A allora a seconda del valore della complessità di d e c e dei valori di a e b abbiamo un ventaglio di casi enorme se siamo fortunati ma davvero fortunati nel caso in cui la divisione e la ricombinazione abbiano una complessità lineare o al più lineare allora complessivamente il nostro algoritmo avrà un tempo di esecuzione n log n e in altri casi no e quindi bisognerà di volta in volta scrivere questa espressione e cercare di risolverla con dei metodi che tra l'altro i matematici non ci insegnano ad applicare come far risolvere questo tipo di equazione alla ricorrenza però se guardiamo il cuore e abbiamo t di n una funzione che è uguale a volte la funzione stessa moltiplicata per un coefficiente qui questo ovviamente a volte è il telefono esponenziale nel nostro caso del quadrato magico abbiamo un problema n e lo dividiamo in n sotto problemi n che cos'è sarà 16 quindi se la mia dimensione il mio problema è grosso n quadro lo divido in n sotto problemi n quadro sotto problemi ciascuno di quali però non è n quadro volte più piccolo è n meno 1 io ho il quadrato da 16 lo divido in 16 sotto problemi ciascuno dei quali è un quadrato da 15 quindi è 15 sedicesimi volte più piccolo non è un sedicesimo più piccolo divido un problema in a 16 problemi ciascuno dei quali b è appena più piccolo di quello precedente e quindi il fatto che io devo dividere in tanti problemi ciascuno dei quali è quasi uguale a quello precedente e si è un pochino più piccolo ma quasi fa sì che questa equazione ricorrenza mi dia come risultato qualcosa che cresce fortemente in particolare se guardiamo il codice perché noi abbiamo il codice potremo di genere che chiama cerca vediamo che ogni volta facciamo n quadro fino ad n quadro chiamate di un problema che è solo di una dimensione più piccola noi sappiamo che cosa facciamo facendo stiamo calcolando tutte le possibili permutazioni quindi dal primo livello scegliamo un numero tra 1 e 16 al secondo livello scegliamo un numero tra 1 e 15 che sia diverso da quello precedente e così via e quindi alla fine quante soluzioni avremo ne avremo 16 fattoriale perché sono tutte possibili permutazioni e riordinamenti dei numeri da 1 a 16 ma 16 non è n perché n vale 4 quindi il nostro programmino avrà una complessità che è il fattoriale del numero di caselle del quadrato e il numero di caselle del quadrato è il quadrato del lato quindi questo qui avrà una complessità scriviamo qua in un commento di questa procedura ricorsiva e sarà o grande ma anche z grande di n al quadrato fattoriale n al quadrato fattoriale e se n fattoriale già cresce più in fretta di un esponenziale figuriamoci il fattoriale di n al quadrato allora con n uguale 3 con n uguale 3 abbiamo 3 al quadrato che fa 9 ce l'ha fatto reale sta roba qua sì e con n uguale 3 il nostro programma ha semplicemente dovuto calcolare 362.000 opzioni con n uguale 4 al quadrato fattoriale questo qui ci metterà sono quante opzioni sono abbiamo detto unità migliaia milioni miliardi migliaia di miliardi sono 20.000 anzi 21.000 miliardi di casi diversi da analizzare che rispetto ai 300.000 malcontati del quadrato 3x3 sono è un problema 70 milioni di volte più complicato più lento e quindi è giusto che da qualche millisecondo passiamo a qualche settimana non so se lo posso fare con 5 perché viene fuori ok viene fuori una cosa che anche rispetto al ai miliardi di prima alle decine di miliardi di prima abbiamo ancora se da 3 a 4 la complessità è aumentata di 70 milioni di volte qua secondo me siamo aumentati di circa 100 miliardi di volte quindi non solo aumenta ma esponenzialmente aumenta più che esponenzialmente cioè il fattore di complessità maggiore di volta in volta cresce a sua volta esponenzialmente quindi su questo non mi cimento assolutamente quello che stiamo cercando di fare per ottimizzare i ragionamenti che facevamo prima empirici alla fine in qualche modo cercano di di giocare su questo vabbè la divisione la ricombinazione non è che posso farci molto in questo caso sono praticamente banali ma A e B ci posso giocare ad esempio il discorso di fermare la ricorsione prima significa che il mio A non è più 16 ma alcune volte lo metto a 0 nel senso che dato un problema non genero più sotto problemi quindi cerco di generare la ricorsione in modo da ridurre tra due cose che posso fare ridurre il fattore di branching cioè dato un certo livello di ricorsione ridurre il numero di chiamate che faccio alla procedura ricorsiva sottostante e l'altro cercare di ridurre il più possibile la dimensione del sottoprobleme che gli passo in questo caso non credo che si possa fare non in mente come però se riesco a diminuire A ed aumentare B in qualche modo quindi ad ogni livello di ricorsione generare meno problemi e di dimensione più ridotta più abbattuta rispetto ai problemi originari vinco dipende molto dal problema ad esempio c'è il problema banale della ricerca dicotomica pensate di ricercare un valore all'interno di un vettore ordinato in cui guardate a metà ricorsivamente il valore di metà è più grande o più piccolo di quello che avevamo fatto per giocare indovina il numero è più grande o più piccolo se è più grande butto via una metà e mi concentro sull'altra metà allora in questo caso è un algoritmo che si può formulare in modo ricorsivo dove A è 1 ad ogni tentativo quanti tentativi successivi devo fare uno solo non devo provare a sinistra e a destra perché sulla base del risultato che vedo vado o solo a destra o solo a sinistra ma B è 2 perché ogni volta che vado al passo successivo ho un vettore che è grosso la metà allora quando A è piccolo e B è grande relativamente A uguale 1 B uguale 2 ho una complessità che è l'ogaritmo di n logaritmo sublineare quando O uguale 1 B uguale 1 di solito è una complessità lineare e quando A è più piccolo rispetto B cioè pardon A è più grande rispetto B comincio ad avere le complessità che sono superlineari tendenzialmente esponenziali non ci posso far nulla posso cercare di migliorare mitigare ma il caso peggiore sarà sempre quello sarà sempre esponenziale quindi come vi dicevo all'inizio dell'ora io ho buone speranze che lavorandoci i quadrati di lato 4 riusciamo a risolverli e basta non oso dire e anche lavorandoci di più riusciremo a risolvere anche quelli di lato 5 o affrontiamo il problema dal punto di vista analitico matematico ci sono tante altre cose che si possono scoprire tutte le simmetrie non le stiamo usando se io ho scoperto che una certa combinazione in orizzontale me la trovo più tardi in verticale è inutile che vada a esplorare anche quella perché in realtà per simmetria l'avevo già esplorata prima però le simmetrie quante sono? 8 vuol dire che riduco lo spazio di un fattore costante 8 che va bene vuol dire passare da 16 settimane a 2 ho ridotto in un fattore 8 bello è utile passare da 12 milioni di anni a 6 milioni di anni non mi serve a niente quindi quando supero una certa livella di complessità non ci posso più far nulla perché proprio è il problema che intrinsecamente ha quella complessità noi possiamo avere una complessità elevata perché abbiamo implementato male l'algoritmo siamo stupidi noi l'abbiamo fatto male oppure perché è il problema stesso che non può essere risolto in modi più efficienti di quello allora questo lascia noi non ce ne occupiamo in questo corso ma lascia spazio a tutti gli algoritmi di soluzione approssimativa ok io so che non avrò di sicuro milioni di anni a disposizione per fare i quadrati di lato 5 ma magari uno riesco a tirarlo fuori in un tempo inferiore o uno che si avvicini a un quadrato di lato 5 non è magico ma è quasi magico rilassiamo dei vincoli per trovare una soluzione approssimata quindi c'è tutta una branca dell'ottimizzazione che si accontenta si accontenta per modo di dire nel senso che va già bene così di trovare soluzioni approssimate non ottime a problemi anche complessi di complessità elevata in un tempo accettabile dove quindi una variabile in più un input in più non è solamente il problema da risolvere ma quanto tempo ti do per risolverlo e tu tirami fuori il meglio che sai fare in quel tempo ecco l'approccio ricorsivo in questi casi non è sicuramente più adatto perché è stupido perché l'approccio ricorsivo dice mettiamo un 1 lassù ma è una scelta più furba mettere un 1 lassù boh può darsi può darsi sì non lo so però l'algoritmo ricorsivo non fa nessuno sforzo per capire cos'è meglio mettere dove va in modo diciamo così abbastanza cieco ok quindi questo purtroppo ci sconforta questi numeri qua con tanti zeri ci sconfortano da un'altra parte ci confortano perché dicono vabbè se proprio il problema è così è intrattabile non è colpa mia che non ci riesco a risolverlo però ci danno dei limiti che ci fanno capire fin dove riusciamo ad arrivare e quale tipo di problemi possiamo affrontare o no quando le prossime settimane cominceremo a affrontare i grafi ad esempio quindi strutturati più complessi su cui gli algoritmi di lavoro sono più complessi vedremo proprio che ci sono alcuni algoritmi che hanno una complessità lineare quadratica polinomiale in alcuni casi addirittura sublineare e allora sarà un attimo anche su grafi molto grandi e altri che riconosceremo già subito come algoritmi di complessità esponenziale e non ci verrà neanche in mente di provare a applicare su grafi più grandi e quindi certi tipi di domande impariamo a non farcele perché sappiamo che non hanno risposta ok io oggi mi fermo qui ok